Allora io sono Antonio e oggi vi presenterò il tour di casa Nazareth Adesso invece andiamo nei dormitori Questa è l'entrata appunto dei dormitori Come possiamo vedere qui ce ne sono quattro, qui ci sono i vari dormitori Questa è quella in cui dormo io, qui ci sono le storie dei ragazzi e qui dormono le ragazze E qui passiamo anche la maggior parte del nostro tempo libero se non la passiamo sul campo da basket In cui possiamo stare con i nostri amici o leggere o stare a parlare Ciao ragazzi, ora andiamo verso il refettorio, verso la nostra sala da pranzo Allora ragazzi, ora siamo qui pari al refettorio di casa Nazareth Dove in questo momento si sta per consumare la merenda Infatti facciamo ogni tipo di pasto all'interno di questa sala Che parte dalla colazione fino alla cena E dove diciamo stiamo insieme all'insegno appunto del cibo e quindi di condividere vita Andiamo ragazzi, ora vi porto al nostro fuoco di bilacco È un po' come la nostra seconda casa È un posto in cui ieri sera alla prima notte abbiamo effetto i nostri pensieri con tutto il gruppo Infatti è come un posto magico per noi In cui appunto facciamo il progetto che sarebbe sotto un cielo di stelle Che sarebbe un vero e proprio luogo fantastico per noi di Lagiapaletti Andiamo ragazzi Eccoci qui dove si svolgono le vere vere lezioni qui del Summer Camp di Lagiapaletti Dove appunto svolgiamo lezioni basate soprattutto sul giornalismo ma anche sulla fotografia E su vari temi comunque Qui è dove ci raduniamo tutti nella nostra formazione a quadrato E dove succedono le nostre diciamo gli ugnuoli Buongiorno ragazzi Allora come avete visto già da prima siamo qui sul campo da basket Per noi di Lagiapaletti questo campo da basket rappresenta un vero e proprio sfago Già da ieri Infatti come vedete giochiamo a basket Oppure addirittura lo improvvisiamo come un campo da calcio E quando abbiamo un momento libero siamo qui a cercare di fare i nostri tiri da tre punti Con questo verde faccesco siamo arrivati anche alla fine di questo tour In cui avete potuto vedere le principali zone salienti dove passiamo il nostro tempo qui noi di Lagiapaletti E scusate ragazzi di domandare perché sta per iniziare il TG Young E scusate ragazzi di domandare perché sta per iniziare buona BILLIONI Ma Grazie Grazie a tutti.